Scintille, tra Morgan e Fedez. Nel vasto panorama dell'opinione pubblica, una dichiarazione come quella di Morgan su Fedez, definendolo un ignorante, diventa una sorta di fulmine che squarcia il cielo sereno della percezione comune. Queste parole non sono solo un'osservazione, ma un manifesto di contrasto, un'esplosione di disaccordo che porta con sé un'enorme carica emotiva e concettuale. Immagina un palcoscenico immenso, illuminato da riflettori abbaglianti, dove due figure di spicco, Morgan e Fedez, si confrontano non solo come individui, ma come simboli di due mondi apparentemente distanti che improvvisamente si scontrano. Morgan, con la sua aura enigmatica e il suo bagaglio artistico che risuona nei secoli della cultura italiana, si erge come un'icona della musica e del pensiero libero. Fedez, dall'altro lato del palco, rappresenta la voce della generazione digitale, con la sua presenza vivace sui social media e le sue incursioni nell'attivismo sociale e politico. Nel momento in cui Morgan pronuncia quelle parole taglienti, un ignorante, la sala si gela. Non è solo una critica, ma un'intera narrazione che si dispiega sotto gli occhi del pubblico. Morgan potrebbe vedere Fedez come un novello arrivato nel mondo dell'arte. Uno che forse non ha ancora percorso le strade tortuose della conoscenza e dell'apprendimento che lui stesso ha percorso. Potrebbe percepire una mancanza di profondità nelle parole o nelle azioni di Fedez, un vuoto che grida a essere colmato dall'esperienza e dalla saggezza. Dall'altra parte, Fedez potrebbe sentire quelle parole come una sorta di tradimento, un'affermazione che scuote le fondamenta della sua autostima e della sua identità pubblica. Potrebbe vederle come una dimostrazione di elitismo o chiusura mentale, una barriera eretta tra lui e il riconoscimento di un sistema che sembra rifiutare le voci giovani e innovative. Ma dietro questa scena di conflitto c'è anche la complessità delle relazioni umane che si dischiudono. C'è il sottile intreccio di ego, ambizione e visioni del mondo che si scontrano e si mescolano in una danza intricata di emozioni e prospettive. È un momento che ci ricorda che le opinioni non sono mai monolitiche, che dietro ogni parola c'è un intero universo di esperienze, percezioni e desideri. In ultima analisi, la dichiarazione di Morgan su Fedez non è solo un giudizio, ma un punto di partenza per una riflessione più ampia sulla natura mutevole delle opinioni e delle percezioni umane. È un invito a guardare oltre le etichette e ad abbracciare la complessità e la ricchezza della nostra diversità. Unisciti al dibattito! Iscriviti ora per seguire da vicino il confronto tra Morgan e Fedez sul nostro canale.